Attesa mista a curiosità, il nuovo Teramo debutta in Coppa Italia al Bonolis col Monterosi, neopromosso in Serie C. Finora un solo test amichevole col Castelnuovo, sostanzialmente positivo. Una squadra insomma tutta da scoprire, profondamente rinnovata, ma ancora da completare. In attesa di ulteriori pedine, il tecnico Federico Guidi ringrazia il presidente Franco Iachini. Ho l'occasione per esternare la mia soddisfazione, per ringraziare il presidente per gli ultimi sforzi, perché secondo me sono arrivati tre calciatori funzionali a quelle che sono le nostre idee di gioco, mi riferisco a Tozzo, a Malotti e a Bernardotto, e non era scontato, nel senso tutti quanti sapete, sappiamo che momento sta vivendo l'intero paese e tutto il mondo, e pochi soldi che stanno girando in ogni ambito, non solo in quello calcistico. Chiaramente siamo agli inizi e ancora il mercato non è chiuso, l'organico ancora non è definito perché ci sono delle posizioni che sono scoperte. Sistema di gioco 4-3-3, il probabile 11, Tozzo tre pali, Asiomanovic, Soprano, Piacentini e Rillo in difesa, Rigoni in cabina di regia, Mungo e Viero interni di centrocampo davanti, Malotti e Chiare Matenga a supporto di Birligea, con Bernardotto appena arrivato, pronto a fare il suo esordio in corso d'opera. Per contro il Monterosi, provincia di Viterbo, neopromosso, matricola del Girone C. Il suo mentore è il tecnico David D'Antoni, ex centrocampista MB di Salernitana Venezia, soprattutto a Frosinone, 5 stagioni in ciociaria, e una promozione storica MB con Ivo Iaconi, allenatore nel 2006. Altresi storico, il traguardo centrato con Monterosi, ma da tecnico. Il probabile 11, 3-5-2, Marciano tre pali, Piroli, Rocchi e Borri nel cuore della difesa, Cancellieri e Adamo sulle fasce, a metà campo Buono, Franchini e Parlati, in attacco Ferri Marini e Alessandro Polidori, ex Imolese, Viterbese, Arezzo e Rimini. Io vorrei vedere una squadra molto dinamica sul campo, che a seconda di come gli avversari ci verranno a prendere, riuscirà a leggere le situazioni e a far uscire una qualla pulita dalla prima costruzione, dalla prima pressione avversaria, per andare a attaccare con grande qualità e con quanti più uomini possibili. Vorrei una squadra che abbia voglia di dominare il gioco e di andare alla ricerca di pericolosità in avanti. Questo me lo aspetto perché è quello che abbiamo lavorato molto durante questi giorni dall'inizio del ritiro. Grazie.